Buon pomeriggio, bentrovati a questo secondo appuntamento del ciclo Megatrend voluto e organizzato da Schilla. In questa puntata, oltre all'ospite che fra poco al protagonista della Nessio Magistralis che vi introdurrò, è accanto a me una persona che ha realizzato un piccolo paradiso alle porte di Milano e che ho il piacere di introdurvi è l'ingegnere Piero Manzoni. Grazie Piero per essere qua con noi. Piero è CEO di Neorurale Hub alle porte di Milano e fra pochi minuti vi racconteremo la bellezza che ha creato. Per quanto riguarda invece il protagonista della nostra Lectio Magistralis, potrei introdurvelo con un codice, con una sigla 21256 perché dovete sapere che nello spazio vige la legge per cui chi scopre un corpo celeste porta il suo nome. Buonasera professor Battiston, grazie per essere qua con noi e per averci raggiunto. Professor Battiston è in collegamento da Trento, presentarlo è quasi semplice nel senso che è stato presidente dell'Agenzia Spaziale Internazionale per quattro anni, è uno dei maggiori fisici al mondo esperti in raggi cosmici, ha l'attivo oltre 500 pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche internazionali, ha collaborato con il premio Nobel Samuel Singh nello sviluppo dello spettrometro magnetico alfa che opera sulla stazione spaziale internazionale ed è d'autore di una serie di libri. Cominciamo col comprendere dove siamo. Quando diciamo siamo qui, ecco questo qui a quanto pare non è particolarmente significativo dal punto di vista spaziale, siamo un punticino e forse non è nemmeno tanto significativo dal punto di vista temporale, siamo in quei 16.000-17.000 anni di condizioni di abitabilità particolarmente favorevoli per la terra e ci siamo. Però diciamo nell'economia come si direbbe della grandezza di cui siamo assistiamo, qui assistiamo, siamo piccola cosa. Com'è il nostro qui allora? Prego. Diciamo noi dobbiamo collocarci nello spazio e nel tempo. Come vedremo fra poco nello spazio siamo veramente in una zona qualunque di un universo enormemente grande e per quanto riguarda il tempo siamo anche qui in un momento di sviluppo come ce ne sono tanti e come continuerà per miliardi di anni a svilupparsi. Questo non ci impedisce però di proiettarsi verso il tutto sia nello spazio che nel tempo è di capire meglio dove siamo, in quale universo siamo e soprattutto come possiamo cercare passo passo nella nostra piccolezza a beneficiarne delle meraviglie che ci circonda. Bene, per collocarci in questo viaggio che intraprendiamo questa sera, vediamo un po' dove ci troviamo. Siamo in un sistema solare, abbiamo una stella al sole al centro, accompagnati con un certo numero di altri pianeti che girano intorno a questa stella. La Terra è uno di questi pianeti, è il terzo contando Mercurio-Venere prima di Marte e prima dei grandi pianeti ghiacciati. Fino adesso noi abbiamo esplorato di questa zona intorno alla Terra a poche centinaia di chilometri e siamo stati fino allo settembre importante che è la Terra che è la Luna per una serie di volte per poterlo poi esplorare. Certo che tutto questo rispetto alle immensità in cui siamo immersi non è tanta cosa. A un certo punto la NASA mandò una navicella, una che si chiama Voyager, uno dei due che ha mandato in orbita, per l'obiettivo di andarsi dal sistema solare uscendo fuori dai suoi confini dalla bolla di plasma che lo circonda. Ci mise 35 anni. Bene, dopo qualche tempo che stava viaggiando, ad alcuni miliardi di chilometri dalla Terra, gli fu ordinato di voltarsi e prendere un selfie, il selfie più distratto da una parte artificiale, da un corpo artificiale verso la Terra, per fotografare questo pallido puntino blu, Pale Blue Dot, il titolo di un libro bellissimo di Carl Sagan, in cui vediamo la nostra piccola Terra nella luminescia della polvere che accompagna la sua orbita. Questo dà un'idea di quanto sia insignificante apparentemente questo pianeta che per noi e per tutta la nostra culla è il posto in cui ci siamo sviluppati. Dove possiamo andare dalla Terra? Beh, il corpo celeste, se non contiamo la Luna, su cui siamo già stati, che ci affascina moltissimo, è Marte, una pianeta non molto più piccola della Terra, però più lontano dal Sole, quindi più freddo. È attualmente un grande deserto. Dante diceva, ecco qual sorpreso dal mattino per i grossi vapore, Marte rosseggia, ponente sopra il Sol marino, Marte del pianeta rosso, Marte il pianeta che è associato alla guerra, i latini lo chiamavano appunto Dio della guerra, come fosse il rosso colore di sangue, colore di rabbia. Marte è stato un obiettivo prima per gli astronomi che con potenti telescopi l'hanno osservato. Questo signore con i baffi si chiama Schiaparelli, un importante astrofisico, astronomo diciamo, quei tempi si chiamavano così italiano dell'Ottocento, che con le sue osservazioni fu il primo a disegnare delle sofisticate e complesse cartine della superficie di Marte, in cui disegnò delle montagne, degli avvallamenti, delle cose che gli sembravano dei laghi o dei fiumi e poi dei punti che collegò con delle linee diritte, che nella suo diciamo articolo di commento descriveva come canaloni. Bene, questa descrizione fu tradotta da un altro astronomo divettante americano molto influente, molto ascoltato, Lowell, che gli tradusse in canals, che in inglese vuol dire canali artificiali. Bene, questa traduzione sbagliata e la capacità di comunicazione che aveva Lowell e qualche cosa nel fondo di noi stessi che ci fa desiderare di non essere solo in un universo, creò da un mese all'altro il concetto di marziani. Marziani che vivevano in città collegate da strade, da canali, da fiumi che pieni d'acqua e incominciarono a circolare le più incredibili immagini di questi esseri di colore rosso, con gambe e braccia che vivevano in case speciali. Tutto questo frutto dell'immaginazione, del nostro inconscio, forse desideriamo di non essere solo in un universo. I marziani sono ancora con noi oggi, ma sappiate che sono nati da un errore di traduzione. È difficile andare su Marte, abbiamo visto recentemente le meravigliose immagini della missione che ha aggiunto recentemente Marte da parte della NASA, Perseverance. Sappiate che nel corso di 50 anni è bassa, si hanno provato 30-40 volte i vari paesi ad atterrare. L'Unione Sovietica e la Russia ha sempre fallito. Le linee rosse che voi vedete sono i tentativi russi che per un motivo o per un altro non sono mai riusciti né ad atterrare, ma neanche di mettersi in orbita attorno alla pianeta. Gli americani sono riusciti ad atterrare più volte, l'ultima volta l'altra sera. Gli europei hanno fatto due misi molto di successo che girano intorno a Marte e una che ha tentato l'atterraggio e portava il nome di Schiapparelli, forse vi ricorderete. Entrò nell'atmosfera, arrivò a un chilometro e mezzo di altezza, però purtroppo poi a quel punto le retrospinte non funzionarono e la navicella si schiantò sul suolo marziano. Bene, Marte è un pianeta che è stato tre o quattro miliardi di anni fa pieno d'acqua. Si vedono chiaramente le immagini di pianuri, di avvallamenti che sono chiaramente collegabili alla presenza di antichi fiumi, di antichi laghi. Sotto la superficie marziana siamo riusciti con degli esperimenti proprio fatti da italiani a scoprire la presenza di laghi sotterranei pieni d'acqua in profondità. Vediamo dalle forme delle valli presenti, delle corrugamenti presenti che ancora oggi Marte ha tantissimo ghiaccio appena sotto uno strato di polvere che lo protegge. Questa è un'immagine del polo marziano e dell'immagine sotterranea in quel puntino blu del lago che è stato scoperto. E poi abbiamo lo studio della superficie. Questa è un'immagine del rover Perseverance con la sua telecamera, con le sue sonde, che cura la superficie delle rocce e ha come obiettivo di caricare addirittura del materiale che un'altra missione fra 5-8 anni andrà a recuperare e portare sulla Terra. Queste sono immagini raccolte dai precedenti rover. Si muovono molto lentamente questi rover sulla superficie marziana, pochi centimetri al secondo. Questa è un'immagine molto affascinante della Terra fotografata da Marte. E quindi è un'immagine che ci fa capire quanto di nuovo siamo piccoli in un universo così grande. Ecco qualche immagine viste da satellite di crateri, ma anche di foci di un vecchio, di un antico fiume che sfociava in un antico mare. Questa è una cratere con un ghiacciaio di anidride carbonica. Sappiamo che su Marte l'atmosfera non è respirabile, è anidride carbonica, che però può condensare in condizioni di sufficiente freddo e quindi fare dei nevai di questo tipo di sostanza. L'Europa sta lavorando per tornare su Marte con una missione chiamata ExoMars, che nel 2016, come vi ho detto, ha cercato di atterrare con questa struttura chiamata Schiaparelli, c'è quasi riuscito, mancava pochissimo, e nel 2022 riproverà per andare a scoprire se su Marte, che una volta era pieno d'acqua, ci sono tracce di vita antica nascoste dentro il ghiaccio, dentro la polvere sotterranea, dentro la superficie nascosta del pianeta. E non è una cosa semplice andare su Marte, questo è un po' uno schema che mostra la NASA, è molto bravo a mostrare questo schema. Ecco, Roberto, quello che volevo chiederti era appunto anche questo, ma se pensiamo alle grandi esplorazioni del passato, pensiamo all'America, alla Cina, una volta che c'è il contatto con un nuovo mondo, poi iniziano gli scambi, i viaggi, le colonie, ma perché è su Marte così difficile? Dopotutto sono passati, insomma, un po' di anni dal progetto Marte di Von Braun, eppure a parte qualche piccolo toccata e fuga, le sonde, però è molto difficile alla fine questa conquista. Beh, diciamo, il pianeta Marte è lontano dalla Terra, ci vogliono circa 6-7 mesi per arrivarci e poi se torniamo indietro da Marte lo possiamo fare, dopo aver atteso, anche lì altri 6-7 mesi che i due pianeti, la Terra e Marte, si mettono in una condizione tale da rendere il viaggio effettuabile in non troppo tempo. Infatti quello che si pensa, che già Von Braun pensava, ma che si pensa di fare, questo è lo schema della NASA, di arrivarci per passi con viaggi sulla Luna, a base lunare, missioni intermedie, è un insieme di missioni che ci porterà su Marte, difficilmente sarà una singola missione. Poi dobbiamo fare i conti con quello che ci aspetta da fuori, ed è questo il punto di cui voglio parlare brevemente adesso. Da fuori l'ambiente spaziale, lo spazio profondo, lo spazio sulla superficie di un pianeta come Marte è ostile nei confronti dell'uomo. Abbiamo bisogno di tutte le tecnologie possibili e immaginabili per rendere questo viaggio sicuro e non semplicemente un rischio insostenibile. Abbiamo per esempio nello spazio una quantità imposante di radiazioni, radiazioni solari che possono avere anche un'intensità enorme, variabili nel tempo, e se non siamo protetti in qualche modo noi non siamo fatti per resistere a un'intensa radiazione. La Terra, con il suo campo magnetico, l'atmosfera, ci protegge da questo tipo di fenomeno, ma se siamo in una navicella lontana nella profondità dello spazio, difficilmente si potrebbe sopravvivere. Noi siamo abituati a vivere nello spazio, ma nelle vicinanze della Terra. La Stazione Spatiale Internazionale, per esempio, è una meravigliosa costruzione, la più grande sforzo tecnologico mai realizzata in un contesto internazionale, dove fino a nove astronauti possono vivere e vivere bene per lunghi periodi, anche per un anno intero, ma anche in questo contesto così raffinato, così tecnologicamente avanzato, possono succedere cose strane. Vi ricorderete che Luca Parmitano, che ha una bella esperienza nella Stazione Spaziale, anche tornato l'anno scorso facendo delle attività estravericolari importanti, nella precedente missione, ebbe un incidente molto serio in cui semplicemente una valvola posta nel retro del suo casco incominciò a perdere il liquido al rifrigerante della tuta e incominciarono a galleggiare delle bolle d'acqua, delle bolle d'acqua che si attaccarono poi al suo volto, alla sua testa, gli riempirono prima le orecchie, poi il naso, poi la bocca. Per farla breve, ha rischiato realmente di affogare, diciamo così, in un bicchiere d'acqua nello spazio. Se detto così, sarebbe quasi sorridere se non fosse che è veramente a rischiato grosso. Perché sottolineo questa esperienza? Perché la qualità delle tecnologie nello spazio è fondamentale. È necessario avere l'affidabilità che solo sistemi che riescono addirittura a ripararsi, e quando c'è un problema, un errore, possono garantire. Grazie Roberto. A questo punto creerei il confronto con l'ingegner Piero Manzoni, che ho avuto modo di introdurre prima, perché l'ingegner Manzoni è CEO di Neururale Hub e ha una carriera, per dare qualche nota biografica, ha una carriera manageriale straordinaria, ai vertici di Siemen Power, di Fiat Avio, di Falk, presidente e amministratore delegato, è nel World Energy Council, quindi, e si occupa di economia circolare. Noi diciamo al nostro interno che la natura è il miglior dipartimento di ricerca e sviluppo mai esistito e con un track record di 4 miliardi di anni, quindi chi può battere questo sistema di, appunto, di analisi, di soluzioni innovative. Diciamo che proprio dallo studio della natura noi prendiamo le nostre origini. Da un progetto nato 25 anni fa per passione, noi abbiamo preso 500 ettari della pianura padana a 18 chilometri da Piazza Duomo di Milano e lo abbiamo rigenerato mettendo la natura nella condizione di ricostruirsi da sola. Ovviamente abbiamo fatto delle opere di movimento terra, abbiamo ricostruito canali, prati umidi, prati umidi d'acque alte, prati umidi d'acque basse, fragmiteti, siepi, marcite. Abbiamo piantato 1.800.000 piante e tutto questo percorso ci ha portato in 25 anni a recuperare la biodiversità che c'era presumibilmente in pianura padana, abbiamo fatto questi studi con tre università, Milano, Pavia e Wageningen, la stessa biodiversità che c'era nell'anno 1000. Quindi in 25 anni la natura se viene lasciata nelle condizioni di rigenerarsi torna indietro di mille anni, che è un messaggio di grandissima speranza. Anche qui i tempi si dilatano, cambiano, si accorciano. Certamente, però un grandissima speranza. La natura vediamo che ha delle capacità di ripararsi, come dicevamo prima, che sono inaspettate, sono sorprendenti, ma anche questo esperimento per noi è soprattutto stato sorprendente piuttosto che affascinante, perché mai ci saremmo aspettati questo risultato. Diciamo che abbiamo triplicato, e questo è misurabile con il coefficiente di scambio cationico, abbiamo misurato la fertilità dei nostri terreni dopo 25 anni, abbiamo triplicato la fertilità dei terreni agricoli. Studiando questo processo, studiando questo percorso, questo esperimento e quindi lavorando su batteri, acqua, ghiaccio d'inverno, come funziona il sole, la fotosintesi clorofiliana e tutti gli aspetti che un'area di 500 eteri rinaturalizzata, rigenerata ti può suggerire, abbiamo sviluppato tecnologie per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia, l'efficienza energetica, l'efficienza sull'acqua, le modalità di rendere più efficiente l'agricoltura, che non dimentichiamo oggi è responsabile in tutto il suo ciclo per il 37% delle emissioni climatteranti, 37% del totale vengono dal mondo agricolo, considerando tutta la filiera ovviamente. Tra l'altro voi avete anche un sistema di stoccaggio della nitride carbonica? Questa, diciamo così, agricoltura rigenerata che produce ambiente e che quindi collabora con la natura, ovviamente stocca più CO2 nel terreno rispetto a una coltivazione normale. Appunto studiando questa natura noi abbiamo sviluppato tecnologie che servono per far fronte a uno dei megatrend, visto che la strada di trasmissione si chiama megatrend, uno dei megatrend che sono più in auge, che sono più conosciuti, che è quello demografico e collegato alla urbanizzazione. Noi oggi stiamo andando velocemente verso i 10 miliardi di persone sul pianeta, siamo 7 miliardi e mezzo oggi, 200 anni fa avevamo tutta la popolazione mondiale per il 10% viveva nelle città, oggi siamo al 54% e la popolazione cresce, nel 2050 saremo probabilmente all'80% vivrà in città. Il livello di urbanizzazione è incredibile. E la fertilità dei suoli diminuisce. La fertilità dei suoli diminuisce perché nessuno più vive le periferie urbane o le zone rurali con passione come si vivevano una volta. Vengono trattate per produrre agricoltura intensiva e questo piano piano degrada i suoli. Se voi uscite da tutte le città, mentre le città sono sostanzialmente pulite, interessanti, piene di locali dove la gente si incontra, dove c'è connettività, lasciamo perdere questo periodo ultimo con il Covid, ma insomma dove c'è questa facilità di incontro e quindi interesse della vita giornaliera, le periferie urbane sono degradate. Se voi uscite trovate rifiuti sui bordi delle strade, le campagne sono diventate un deserto agricolo, non c'è più la dimensione verticale, non ci sono più piante, non ci sono più animali, non ci sono più corsi d'acqua visibili, sono quasi tutti canali magari intubati o interrati per portarla dove serve. Tutta questa cosa praticamente crea uno stacco tra la città, l'urbe che continua a crescere e a svilupparsi e l'ambiente rurale che invece viene sempre depredato, degradato e demarginato. Ma le città invece hanno criticità notevoli, perché le città, se voi pensate che l'80% della popolazione del 2050 occuperà nelle città, se va bene, il 5% della superficie mondiale, diciamo il 4,5%, beh questo fa capire che la densità in queste zone diventa difficilmente sostenibile, diventa insostenibile per quanto riguarda soltanto l'approvvigionamento di cibo. Per esempio noi adesso stiamo ammassando migliaia di bovini o di capi di bestiame che siano appunto buoi, suini o altre fonti di proteine in allevamenti di 40, 50, 60 mila capi di bestiame, tutti non stanno più a brucare o a fare grazing nelle campagne, sono tutti ammassati negli allevamenti che stanno vicino alle città, comunque nelle zone rurali. Anche soltanto i refluizotecnici di tutta questa massa sono un problema. 80% della popolazione mondiale provoca problemi per gli stessi scarti della popolazione mondiale, lo vediamo già oggi nelle nostre città, dico Milano meno, Roma di più, forse Napoli qualche anno fa ve lo ricordate, che problematiche aveva? Quindi lo scarto per qualcuno deve diventare risorsa per qualcun altro? Certamente, la natura ragiona così. Lo scarto, una pianta che cade in un bosco non è più pianta, ma diventa strumento, diventa casa, diventa cibo, diventa dimora, diventa rifugio per qualche altra specie e continua il suo percorso di aiuto alla natura. Appunto noi su questo abbiamo costruito parecchie tecnologie, le vendiamo sul mercato. Tra l'altro il vostro modello, scusa Piero ti interrompo, è quello dell'Innovation Center di Giulio Natta, sostanzialmente, quindi imprese, amministrazioni pubbliche, cittadini vengono coinvolti in un percorso di comportamenti virtuosi. Cittadini, università, spinoffo universitari, centri di ricerca, start-up, cioè le nostre tecnologie noi cerchiamo di completarle con le tecnologie di terzi, perché questo dà valore, cioè amplifica, diciamo così, amplia ancora di più il valore delle nostre tecnologie. Ed è il modello circolare. Ed è il modello circolare. Allora, per controllare e per gestire, abbiamo 1800 ettari in provincia di Milano, dove appunto produciamo cibo che poi viene portato nella città di Milano, per controllare questa agricoltura che produce ambiente e che fornisce alla città non soltanto servizi agricoli, ma servizi ecosistemici, ambientali, noi usiamo, come dicevi tu, il remote sensing, cioè utilizziamo ciò che oggi c'è disponibile gratuitamente, perché noi abbiamo immagini satellitari che sono disponibili gratuitamente. ESA e Copernico? Certo, proprio loro. Se andiamo a un livello di dato, bisogna pagare qualcosa, ma i dati che a noi interessano per l'agricoltura e per l'ambiente sono sufficienti per i standard aperti. Sono disponibili da 30 anni a questa parte, perché io posso costruire la storia di una campagna o di un territorio e costruendone la storia posso capire quali sono gli elementi che hanno prodotto delle discontinue. E i trend. E i trend, e i trend futuri. Capiamo qual è l'erosione eolica. Nelle campagne degradate il terreno perde di struttura, perché ha meno batteri, perché vengono distrutti dalla quantità di concimi chimici o di fertilizzanti minerali. L'assenza di queste batteri e di questa struttura organica fa sì che il terreno rinasca. No, l'assenza di questa roba qui fa sì che il terreno perda la sua consistenza. Perdendo la sua consistenza, diventa come le dune nel deserto. Il terreno non ha più neanche una localizzazione geografica, si sposta in virtù della presenza di vento o di alluvioni o quant'altro. Con i satelliti vediamo quanta acqua serve, qual è la fertilità, qual è il vigore vegetativo, dove ci sono parassitosi, come capire se ci sono anche soltanto delle discariche abusive nascoste sottoterra. Lo guardiamo attraverso i satelliti, quindi dallo spazio. La gratuità della conoscenza, dallo spazio. Basta decodificarli, basta avere dei programmi, basta metterci degli agronomi che conoscono il terreno e magari qualche sensore da qualche parte, combinare i due effetti e poi si ha la possibilità di estrapolare i risultati. A questo punto, Piero, mi piacerebbe se facessi tu una domanda a Roberto. La faccio volentieri, non vorrei essere sgridato se dico delle cose un po' semplicistiche, però dei miei ricordi di ingegneria, io considero che la CO2, essendo, mi sembra, una praticella che assorbe nell'infrarosso ed essendo quindi presente sempre di più nell'atmosfera, possa quasi considerare l'atmosfera, vi è più che viene a riempirsi di CO2, come un sacchetto di celofan, diciamo così, o di nylon che io metto attorno alla, mi sono fatto questi dei test, attorno alla Terra. Questo più CO2, più energia tengo dentro, perché io continuo a riscaldare, perché anche solo per creare freddo io poi fuori riscaldo, io produco calore, i camion producono calore, le cementerie, gli inceneritori, le fabbriche producono calore, ok? Tutto questo calore, se c'è un sacchetto di celofan che lo tiene dentro, evidentemente non può uscire, questo sacchetto continua a gonfiarsi e poi scarica a Terra con i fenomeni un po' più, diciamo così, estremi rispetto al passato. Allora io mi dico, ed è qua la fantasia che faccio di notte, ma che magari è una stupidaggine, ma invece che pensare a togliere la CO2, ne credo che ne produciamo 42 trilioni di tonnellate ogni anno, forse sbaglio il numero, ma insomma una quantità incredibile, ogni anno ne produciamo questa quantità. Dovremmo tornare indietro rispetto alla condizione che abbiamo, credo che sia difficile farlo velocemente. La domanda è la curiosità. Non si è pensato, o non sa nessuno che pensa, senza poter togliere la CO2, di portare fuori calore, magari utilizzando il fatto che lo spazio è nero e quindi assorbe calore rispetto a un corpo celeste come la Terra che non è così nero e più chiaro, avrebbe un senso, poi bisognerebbe chiuderlo di giorno se facciamo un tunnel che porta fuori, perché poi c'è il sole dall'altra parte, credo sia complicato. Però ecco, magari c'è qualcuno che in qualche altra logica sta pensando a questo concetto. Mi scuso se ho detto delle amenità. Assolutamente. Prego, Roberto. C'è un fondamento molto giusto in questo ragionamento. Do solo un esempio. Qualcuno ha proposto di dipingere di bianco i tetti delle case. Già questo avrebbe un aumento della riflettività del pianeta di frazioni di per cento, ma attenzione che quello che ci sfugge, noi vediamo adesso gli effetti del cambiamento climatico con eventi catastrofici climatici, va bene? Ma sappiate che l'alterazione di cui parliamo è un'alterazione che abbiamo prodotto molto piccola. Cioè, qui stiamo parlando di essere cresciuti di un grado in media in cento anni sull'intero pianeta. Un grado rispetto ad una temperatura ambientale che è di 10, 15, 20 gradi. Sembrerebbe poco. Le alterazioni nell'equilibrio incredibile in cui noi siamo cresciuti come specie in questi 10, 15 mila anni, piccole alterazioni di una frazione di grado provocano, se si va su, una siccità globale, se si va giù, una microglaciazione. Quindi lo spostamento che noi dobbiamo ottenere per compensare la situazione di squilibrio. Si parla di una frazione di per cento della riflettività del pianeta, una frazione di per cento della capacità di emettere calore verso l'esterno. Quindi ci sono tutta una serie di azioni che sono comunque massicce, perché parlando della frazione di per cento di un pianeta sappiamo che è tanta superficie, ma stiamo spostando comunque di poco. Dobbiamo spostare comunque di poco l'equilibrio per tornare alle condizioni iniziali. Certamente, poter mettere verso lo spazio che è considerato dal punto di vista termico uno scarico, un sink, perché lo spazio profondo è freddo, la temperatura tipica del cosmo è vicina allo zero assoluto, quindi diciamo quello che tu chiami nero è effettivamente un assorbitore di energia, perché di suo è freddo. Il problema è come poter convogliare queste onde di calore, questa parte infrarossa, queste onde elettromagnetiche caratteristiche del calore, attraverso l'aria che in parte le assorbe con la CO2 ed altri componenti e in presenza per esempio di nuvole o di altro tipo di ostacoli ce lo rimanderebbero comunque indietro. Quindi trovare le condizioni, non è che dobbiamo togliere, non bisogna fare un tubo che sia senza atmosfera, impensabile, impossibile. Occorre usare quelle frequenze elettromagnetiche tali che hanno la capacità di perforare l'aria e ci sono dei buchi di trasmissione ben noti nell'infrarosso e si può pensare qualcosa di più. Qualcuno ci ha pensato? Hanno fatto qualche anche studio all'MIT in questo senso. Grazie, vedi che ho imparato qualcosa. Bene, sono con sé. C'era una certa sintonia, quindi è chiaro. Roberto, io ti ringrazio tantissimo per averci dato questo tuo tempo, questo tuo sapere, questa tua esperienza e anche grazie per aver contribuito attraverso la Caritas alla donazione di cui abbiamo parlato all'inizio. Spero di non aver annoiato i nostri ospiti, ringrazio ovviamente qua in presenza l'ingegner Piero Manzoni, una realtà tra l'altro bellissima da visitare, quindi la consiglio quando sarà possibile ovviamente e io nel frattempo salutando vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie e buona serata. Grazie. Grazie.